Cari telespettatori, bentornati a Primo Cittadino, il programma di Fano TV dedicato ai sindaci del nostro territorio che questa sera riparte ufficialmente per la sua nuova stagione, ma con una novità, come potete vedere, quella dell'orario, l'ora che riguarda, siamo in ritardo di due minuti, ma quello delle 19. Questa è la novità perché abbiamo deciso di dedicare la prima serata alla messa in onda di speciali approfondimenti che per il nostro emittente sono vitali. Siamo sempre in diretta, tra poco vi ricordo anche i numeri di telefono per intervenire e per parlare con il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Potete chiamarci appunto in diretta allo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un messaggio, un breve messaggio su whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco, in questi mesi sono successe tante cose, tante inaugurazioni, io vorrei partire proprio dalle scuole. La scuola media Fermi e anche la scuola primaria Campus perché insomma sono stati due interventi importanti, c'eravamo anche noi con le nostre telecamere, abbiamo realizzato due servizi TG. Partiamo, dicevamo, dalla Fermi, sono stati completati importanti lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico. Quali interventi nello specifico e qual è l'importo? Sì, è un anno di grandi opere per il Comune di Mondolfo, l'avevamo annunciato a gennaio del 2023. Stiamo portando a compimento diverse opere pubbliche nel territorio comunale e altri invece lavori stanno partendo o sono già partiti, quindi per un importo superiore ai 10 milioni di euro, quindi investimenti importanti con finanziamenti ottenuti attraverso bandi ministeriali, regionali, europei e anche finanziamenti attraverso il bilancio del Comune di Mondolfo. In questo caso abbiamo fatto degli interventi importanti nelle scuole, in particolar modo l'adeguamento, abbiamo completato l'adeguamento sismico della scuola media Fermi, che ha previsto l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento degli ambienti e quindi con la ventilazione meccanica controllata. Quindi diciamo un intervento veramente completo di oltre 3 milioni di euro che ha riguardato anche la palestra scolastica, oltre che gli spazi interni, dove abbiamo recuperato anche degli spazi in disuso, abbiamo migliorato la ludoteca comunale prevista al piano terra. Quindi davvero un intervento di cui siamo orgogliosi perché abbiamo riconsegnato una scuola a settembre finalmente moderna, accogliente e sicura. Abbiamo fatto un altro intervento che è quello della scuola primaria Campus, con un restyling all'interno degli spazi interni, degli spazi comuni, con il rifacimento appunto della pavimentazione, una nuova verniciatura, nuovi colori per rendere gli spazi più accoglienti. Quindi da qui si vedono alcune foto, alcune immagini di quello che è stato l'intervento, molto apprezzato in questo caso dall'Istituto Comprensivo Fadi Bruno. Importo complessivo in questo caso? Qui 180 mila euro, quindi l'intervento è di circa 180 mila euro. Siamo intervenuti non soltanto alla scuola primaria Campus, ma anche alla scuola dell'infanzia Campus. Abbiamo rigenerato la recensione, abbiamo migliorato l'illuminazione esterna a LED, abbiamo fatto diversi interventi alla pavimentazione, quindi diciamo che alla Campus siamo intervenuti sia nella scuola primaria che alla scuola dell'infanzia. Però le scuole rappresentano una nostra priorità e ci impegniamo ogni anno a mettere delle risorse all'interno del bilancio comunale. A Centocroci invece nascerà un nuovo asilo? Sì, a Centocroci nascerà un nuovo asilo al posto di quello esistente perché verrà demolito e ricostruito quello esistente. Da progetto realizzeremo un asilo nido più grande, quindi di circa 60 posti, quindi darà un servizio a un numero maggiore di famiglie, porterà più lavoro per quanto riguarda i servizi educativi nella fascia d'età 0-2 anni. L'intervento inizierà a fine anno, quindi a partire da gennaio del 2024 il servizio verrà spostato in questa scuola che è quella che vediamo nell'immagine, che è l'ex scuola di via Damiano Chiesa, che attualmente è in disuso, che abbiamo ereditato dall'unificazione di Marotta e quindi qui nei prossimi due anni verrà svolto il servizio di asilo nido per permettere di andare avanti velocemente e celermente con i lavori all'asilo nido di Centocroci. Vado a leggerle il messaggio del nostro telespettatore. Buonasera per il sindaco di Mondolfo. Volevo dire che la chiusura del supermercato a Mondolfo è una grave perdita per il centro storico, ma soprattutto ora lo stabile cosiddetto ponte giallo deve essere illuminato e presieduto dalle forze dell'ordine per non permettere che con il buio vi possano entrare vandali o qualcun altro. Il Comune in questo caso può fare qualcosa? Ma sì, sulle chiusure di attività non è così semplice perché sono attività imprenditoriali, quindi dipende anche dalle scelte dei privati e in questo caso di grandi catene di supermercati come il Sì. Per quanto riguarda l'immobile sicuramente metteremo attenzione come amministrazione comunale in quella zona. A riguardo sicuramente all'aspetto dell'illuminazione dipende di che tipo di illuminazione si tratta, perché una parte deve essere realizzata naturalmente dai privati su quelle che sono le aree private, quindi non lo può fare il Comune, però sicuramente l'attenzione da parte della Polizia Locale e di tutto il settore per migliorare la sicurezza ci sarà anche in quella zona. Questa sera, Sindaco, si riunirà il Consiglio Comunale, dunque avrà un altro impegno. All'ordine del giorno anche i pannelli fotovoltaici a terra, quindi cercate di evitare questo depauperamento del paesaggio e dell'ambiente? Sì, diciamo che il nostro è una linea di indirizzo che daremo questa sera in Consiglio Comunale, perché la normativa nazionale, così come per le stazioni radiobase, quindi per l'installazione di antenne nel territorio, anche per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici è una normativa nazionale che non aiuta e che c'è da diversi anni, quindi i sindaci si trovano nella difficoltà di riuscire a difendere il territorio con le normative esistenti, quindi sia al fotovoltaico, sia ai fotovoltaici a terra, ma bisogna tenere in considerazione quelle che sono le peculiarità dei nostri territori, perché hanno un impatto ambientale importante. Si è sentito anche con i suoi colleghi, ad esempio Mondavio e San Lorenzo in campo, anche loro stanno cercando di portare avanti questa battaglia. Sì, ci siamo confrontati con diversi sindaci, sia della nostra provincia, ma anche di altre province della nostra regione, perché in effetti ci sono delle criticità non da poco. Nel nostro comune devo dire che adesso di grandi richieste non sono arrivate, è soltanto una richiesta che riguarda un terreno edificabile abbastanza grande, e quindi avrà un impatto importante l'installazione di questi pannelli. In questo caso è in un terreno edificabile dove potrebbero essere realizzati dei capannoni, ma in altri casi la normativa dà la possibilità di realizzare questi pannelli anche in terreni agricoli. Invece per quanto riguarda un'antenna 5G installata in un terreno privato non mancano polemiche. In questo caso i sindaci possono fare qualcosa? Noi come comune di Mondolfo è una vicenda che abbiamo seguito bene in questi ultimi anni, perché Iliad ha installato già da qualche settimana questa antenna che ha un impatto importante sul territorio. È un'antenna alta 24 metri in un terreno privato, quindi frutto di un accordo tra il privato e la compagnia telefonica. Qui il comune di Mondolfo aveva posto il suo diniego all'autorizzazione, quindi Iliad ha fatto ricorso al TAR, che ha dato ragione alla compagnia telefonica. Le antenne sono ormai considerate dalla normativa delle opere di urbanizzazione primaria, quindi vedo anche i comuni a noi vicini, i limitrofi, che fanno davvero difficoltà. Stanno nascendo tante antenne nei diversi quartieri della nostra provincia e della nostra regione e questo crea problemi e preoccupazioni ai cittadini. In merito all'antenna installata a Mondolfo, vicino al cimitero, questa sera andremo in Consiglio Comunale con una variazione che prevede anche il ricorso al Consiglio di Stato da parte del comune di Mondolfo. Non sarà facile perché è una battaglia dura da vincere. Passiamo al Ponte Ciclopedonale sul Cesano. La regione in questo caso finanzierà l'opera? Sì, la regione finanzierà l'opera, anzi devo dire che l'attuale giunta regionale ha ampliato l'importo previsto per il Ponte Ciclopedonale e quindi con questa variazione si riuscirà a completare l'opera. Un'infrastruttura di grande importanza, ne abbiamo parlato più volte. I lavori sono iniziati e quindi credo che l'obiettivo sia quello dell'estate 2025, quindi non la prossima estate ma l'estate 2025, per poter usufruire e beneficiare di questa opera che collega due città, collega due province, che rilancerà i nostri territori dal punto di vista turistico ed economico e quindi siamo davvero molto soddisfatti frutto di un lavoro di squadra assieme al Comune di Senigallia e assieme alla regione Marche. Invece a maggio sindaco è stata aperta la rotatoria lungo la statale Adriatica 16. Quali sono state le impressioni da parte degli automobilisti e poi quando termineranno i lavori? Sì, allora questa intanto è un'opera che avevamo... Un'opera attesa da tantissimi anni. Sì, attesa da decenni che avevamo inserito all'interno del nostro programma amministrativo e è un'opera realizzata da ANAS, è un'opera di fondamentale importanza per la comunità, lo era prima e adesso che la stiamo utilizzando lo è ancora di più perché sono stati eliminati i semafori, sono state eliminate le code e siamo davvero molto soddisfatti per come è migliorata la viabilità e anche la cittadinanza, è davvero molto contenta perché era un'opera che si attendeva da diversi anni. Ormai i lavori sono quasi alla conclusione perché sono state realizzate tutte le isole, le sparti traffico, l'isola centrale, sono state sistemate anche in accordo con gli accordi bonari, con i privati delle aree vicine all'area della rotatoria per la realizzazione anche di alcuni parcheggi. Quindi devo dire che siamo molto contenti di questa opera, soddisfatti della sua funzionalità, ci concentreremo nei prossimi mesi sull'isola centrale perché cercheremo di rendere, attraverso degli interventi che sono già previsti da progetto, l'opera ancora più bella, rappresenta un biglietto da visita per il nostro territorio e quindi cercheremo di renderla veramente più bella e di migliorare l'immagine della nostra città, consapevoli che da convenzione con Alnas non possiamo sponsorizzare l'isola centrale, non può essere quindi data in gestione per sponsorizzazioni che non possono essere installate da normativa con l'Anas regionale, non possono essere installate delle opere troppo impattanti che possano disturbare o distrarre chi è alla guida, però cercheremo di fare del nostro meglio. Rimaniamo sulla statale. Abbiamo, chiedo aiuto dalla regia, una foto per farvi vedere come il prima e il dopo del grande parcheggio che è stato realizzato, eccolo qua, un bel cambiamento ma soprattutto importanti servizi per la comunità. Sì, l'obiettivo nostro è quello di realizzare, individuare delle aree per realizzare dei parcheggi a servizio e soprattutto non solo delle attività commerciali presenti sulla statale ma anche sulla zona mare, che siano ben collegati con la zona mare. In questi anni abbiamo recuperato in collaborazione con i privati un'area vicina al sottopasso delle Rane, in collaborazione con RFI abbiamo recuperato un'area parcheggio vicino alla stazione ferroviaria che poi è stata oggetto anche di riqualificazione e adesso avevamo individuato quest'area che il Comune ha acquistato ormai diversi mesi fa all'asta e quindi è stata adibita a parcheggio, al momento è un parcheggio instabilizzato, è stata installata l'illuminazione pubblica e poi in futuro con le risorse di bilancio comunale lo continueremo a migliorare. È stato creato anche un percorso lungo la statale di colore rosso proprio per fare in modo che chi usufruisce del parcheggio possa raggiungere il lungomare che dista 300 metri. Sindaco, ci fermiamo per qualche istante e poi ricominciamo con un messaggio del nostro telespettatore. A tra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, sindaco le anticipavo di un messaggio arrivato poco fa. Buonasera, la strada che va alla Madonna delle Grotte quando verrà sistemata? Allora, Madonna delle Grotte quindi via la Coppa penso si riferisca ed è una strada che in effetti ha bisogno di intervento. Avremo un sopralluogo, c'è un sopralluogo già fissato con ASET perché era stato oggetto di interventi per la realizzazione di un tratto fognario quindi poi aggiorneremo la cittadinanza, comunque la volontà dell'amministrazione comunale di cercare di mettere delle risorse appunto per la sistemazione perché per andare a Madonna delle Grotte ci sono due strade, via le Grotte è stata asfaltata quindi qualche anno fa mentre rimane via la Coppa che collega il convento di San Sebastiano a Madonna delle Grotte quindi comunque vedremo insieme ad ASET di fare l'intervento, cercheremo di farlo il prima possibile. Passiamo invece agli interventi contro gli allagamenti, riusciamo con la planimetria a spiegare i lavori? Sì, allora intanto per aggiornare la cittadinanza che prosegue questo intervento di un nuovo scarico a mare di un nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche su via Corfu e via Chienti sulla zona mare i lavori sono stati completati, ora il cantiere è su via Corfu, è arrivato all'incrocio tra via Corfu e via Rovani quindi poi proseguirà nei prossimi mesi a completare via Corfu fino poi a via Martini intanto sono stati affidati i lavori per quanto riguarda via Ferrari e via Vetti e quindi procedono questi lavori che sono davvero fondamentali per ridurre il rischio allagamenti in quella zona e in quelle vie e quindi poi terremo anche aggiornata la cittadinanza perché a seguito poi di questi interventi sarà importante l'attraversamento ferroviario il cui progetto è già stato finanziato è stato inviato a RFI e ad ANAS perché sarà previsto un attraversamento sotto la statale e sotto appunto la ferrovia quindi è un'opera complessa ma necessaria per tutto il quartiere quindi i lavori proseguiranno e proseguiranno anche nella prima metà del 2024 A breve inoltre partiranno i lavori per le scogliere a Marotta ricordo di una conferenza stampa del mese di febbraio in cui era presente anche l'assessore regionale Stefano Guzzi Sì, è un intervento di 1.960.000 euro il primo stralcio è di 360.000 euro i lavori sono stati già affidati e la ditta li avvierà nelle prossime settimane ed è stata avviata anche la gara per quanto riguarda invece il secondo stralcio di 1.600.000 euro sono opere di potenziamento delle scogliere per quanto riguarda la zona centrale del litorale di Marotta che presenta maggiore criticità quindi contiamo per marzo del prossimo anno di aver completato tutto l'intervento quindi prima della primavera del 2024 a partire dalle prossime settimane l'intervento riguarderà il tratto che va da via Marecchia quindi all'altezza sostanzialmente di Bagni Solindo per prendere come riferimento gli stabilimenti balneari fino al molo di Marotta questa è l'area su cui si concentreranno questi circa 2 milioni di euro Sindaco, le chiedono rimetterete parcheggio a pagamento il prossimo anno nella zona mare? Sì, sono confermati e abbiamo avviato questo percorso e sono andate anche secondo come erano le aspettative dell'amministrazione quindi devo dire che c'è stato anche un miglioramento era in via sperimentale per questo primo anno faremo dei piccoli aggiustamenti, degli accorgimenti però verranno ripetuti anche il prossimo anno rimaniamo nel lungomare zona sud perché verrà riqualificato in che modo e quando? Allora, il lungomare sud sarà oggetto di intervento dal sottopasso Togliatti alle vele l'importo che abbiamo messo da bilancio è di 440 mila euro è un tratto di lungomare che necessita assolutamente di intervento quindi verrà riqualificato l'obiettivo è avviare i lavori nei primi mesi del 2024 per essere pronti per l'estate 2024 prevedono il rifacimento di tutto il manto stradale sia della ciclabile che della doppia corsia ma anche delle zone parcheggio che sono attualmente instabilizzato prevede l'ampliamento della pista ciclabile che verrà separata dalle due corsie da un cordolo che è quello che è previsto dalla normativa e quindi sarà una riqualificazione importante per quella zona quindi riusciremo a riqualificare a dare una risposta dal sottopasso Togliatti alle vere in questi anni abbiamo riqualificato la zona centrale la zona nord e manca l'ultimo tassello che è la zona sud arriveremo fino alle vere questa sera in consiglio comunale parleremo di un'acquisizione quindi passerà di proprietà pubblica la strada del lungomare di una parte di lungomare a sud delle vele che attualmente ancora non era stata acquistata dagli anni 70 dal comune di Mondolfo quindi andremo a risolvere anche quella questione per poi fare ulteriori interventi e proseguire Invece qual è il progetto previsto per il campo sportivo di via Martini? Sì, invece abbiamo messo delle risorse a bilancio per quanto riguarda la riqualificazione del campo sportivo dello stadio di Marotta in via Martini quindi l'intervento è di 950 mila euro e prevede la riqualificazione del manto in erba sintetica la nuova illuminazione a led con led di ultima generazione e la nuova recinzione quindi verrà cambiata quella attuale con una nuova recinzione anche per migliorare appunto la sicurezza della struttura siamo intervenuti in questi mesi negli ultimi mesi anche per quanto riguarda il campo sportivo del Mondolfo quindi è previsto l'acquisto di una nuova tribuna ed è previsto anche sono stati già realizzati in realtà degli interventi per quanto riguarda dal secondo campo rispetto al campo centrale quindi diciamo dei miglioramenti per continuare a migliorare le strutture sportive del territorio le dicono sindaco tutti interventi a Marotta invece per Mondolfo cosa è previsto? Mondolfo abbiamo parlato prima qualche diciamo qualche settimana fa abbiamo inaugurato e adeguato dal punto di vista sismico una scuola abbiamo fatto un intervento alla scuola primaria Moretti in cui c'erano dei locali che erano completamente in disuso e abbandonati li abbiamo recuperati per i ragazzi abbiamo riqualificato il campo sportivo di Viafermi il recupero del bastione Sant'Anna quindi ecco non vado a far l'elenco di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo a Mondolfo continueremo sicuramente la volontà dell'amministrazione comunale è quella di creare un percorso per la realizzazione di un cinema teatro a Mondolfo quindi una nuova struttura coperta che possa ospitare eventi di qualità al coperto che è quello che sta mancando quindi stiamo avviando questo percorso con la nostra amministrazione comunale che rilancerà il nostro centro storico anche se richiede tempo e anni dal punto di vista della pubblica amministrazione poi anche nei quartieri stiamo lavorando tanto perché ad esempio sono partiti poche settimane fa anche i lavori per il percorso ciclopedonale che collega il quartiere di Centocroci alla Abbazia di San Gervasio e quindi un collegamento che metterà in sicurezza i cittadini della zona e si collegherà con il percorso che abbiamo realizzato qualche anno fa fino a San Sebastiano quindi devo dire che stiamo lavorando su tutta la città cercando di fare degli interventi del nostro meglio ecco poi dappertutto non si arriva però insomma ci sono delle belle progettazioni abbiamo progettato ad esempio nel centro storico abbiamo progettato la riqualificazione di via San Michele che è una via del centro che necessita di una riqualificazione quindi diciamo che gli interventi da fare non mancano nel territorio e una tensione è stata rivolta anche agli amici a quattro zampe sì abbiamo realizzato anche una dog aria dog aria piano marina quindi all'altezza insomma del percorso adiacente al percorso ciclopedonale Mondolfo Airfield è un progetto che abbiamo seguito con la consigliera con delega Franceschini e devo dire che è un'area che è molto utilizzata dalla cittadinanza e dalla comunità e sarebbe bello replicare questo progetto anche in altre zone del territorio Sindaco vorrei anche parlare della bandiera Lilla che vi è stata attribuita perché è un riconoscimento molto importante ricordiamo anche a quali comuni viene attribuito qual è stato il vostro percorso ma allora intanto è il riconoscimento che rappresenta non un punto di arrivo ma è un punto di partenza che è da stimolo sicuramente per fare sempre meglio e per continuare l'opera di abbattimento delle barriere architettoniche all'interno del territorio siamo contenti di averlo ottenuto quest'anno e la cerimonia di consegna è venuta in occasione di un torneo a noi caro che è un torneo dell'amicizia di Power Cherokee che organizziamo al Palazzetto dello Sport assieme alla Croce Rossa assieme all'Avis di Mondolfo e assieme alla Proloco Trecoali di Mondolfo e quindi diciamo che è un vessillo che ci rende orgogliosi consapevoli che ci sono diverse ancora barriere da abbattere all'interno del nostro territorio ma comunque continueremo questo percorso nel tempo e negli anni penso ad esempio alla scuola mediafermi che era una scuola più piani che non aveva neanche un ascensore invece si è provveduto con il nuovo intervento che abbiamo fatto alla scuola di Mondolfo di prevedere appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione del nuovo ascensore quindi tanti interventi che facciamo durante gli anni e poi non sarà facile tenerla ecco come vessillo però ci proveremo però insomma si può anche favorire questo tipo di turismo quindi di persone con disabilità sì certo anche attraverso dell'iniziativa attraverso gli eventi ad esempio questo evento del Power Cherokee che lo facciamo in collaborazione con la Wilm e anche con Dolphins Ancona è un evento che porta squadre ecco quest'anno sono venute le squadre da Udine da Genova da Bareggio quindi insomma è un modo anche per promuovere il territorio abbiamo pochi minuti vediamo se riusciamo a parlare di eventi vorrei leggere un altro messaggio l'Eterna è incompiuta via Illica verrà mai terminata? eh via Illica abbiamo realizzato pochi anni fa un intervento importante di illuminazione pubblica ci sono dei parcheggi instabilizzati ci sono dei marciapiedi non realizzati quindi abbiamo ereditato una situazione insomma non proprio semplice dobbiamo mettere risorse a bilancio e non è non è così facile e immediato abbiamo ancora due minuti circa Sindaco parliamo di eventi vogliamo fare una panoramica di quelli che si sono conclusi di quelli anche che vi attendono nei prossimi mesi sì diciamo che gli eventi sono stati tanti e quindi diciamo siamo molto soddisfatti di come sono andati perché c'è stata molta partecipazione tanto entusiasmo penso alla rassegna letteraria come un libro all'aperto che ha avuto autori del panorama culturale nazionale tramantici il primo festival della fisarmonica che è nato per valorizzare appunto questo strumento popolare che ha caratterizzato la storia di Mondolfo dall'inizio dell'ottocento il festival degli anni 80 con Ivana Spagna e Righiera sono stati veramente artisti che hanno fatto divertire e poi anche con il contributo delle associazioni il MAF con l'associazione MAF il Marotta Acustica Festival alla Tratta per quanto riguarda la tradizione con Malarupp al Festival degli Artisti di Strada quindi stiamo lavorando per la prossima stagione estiva cercando di replicare quella attuale se è possibile fare anche meglio anche se non sarà facile per quelli invernali i biruccini tornano? Sì stiamo lavorando con le proloco che solitamente seguono il Natale e con le associazioni insomma del territorio che organizzano diversi eventi natalizi torna il Natale più bello nel Borgo più bello quindi diverse iniziative legate anche a quella della proloco provinciale Natale che non ti aspetti cercheremo con le luminarie di rendere il nostro territorio più bello e ne parleremo poi anche nel corso dei nostri telegiornali quindi grazie Sindaco per essere stato nostro ospite grazie a voi per l'opportunità un ringraziamento anche alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra noi ci vediamo tra poco alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia buona serata Grazie a tutti